Riccardo Polizzi Carbonelli insieme ad Alberto Bader e a Fabio Caffoni Ah c'è anche Alfonso, fantastico Bene, siamo qui tutti riuniti per questa scena madre Non fare così perché sennò io sballo Ecco, questa cosa andrà su Facebook ragazzi Eh beh direi Ah sì? Marca loca, allora non ti riprendo più Bene, ecco i 4x4 Una fantastica squadra, molto figa E quindi siamo qui tutti riuniti Abbiamo quasi terminato, vero ragazzi? Guarda Alberto da dietro, fantastico Cosa volete dire? Non dite niente? Stiamo lavorando Stiamo Lavorando Siamo stanchi, siamo stanchissimi Va bene E tu Alberto che sei il regista di questo blocco che dici? E senza audio Ma ritorna tra poco Va bene Allora alla prossima Ciao